Grazie a tutti. Come cittadino, come genitore di questo tipo di evoluzione tecnologica. La presentazione di prima, pensavo alla parola magica che sottende al discorso estremamente interessante, investimenti. Anche l'assessore prima citava quello che è il problema, la carenza dei mezzi e quindi la carenza di risorse indispensabili per poter poi avere dei benefici successivi. Il problema è avere la disponibilità dei fondi oggi per investire e averne i benefici domani. Noi siamo partiti come genitori su sollecitazione dell'amministrazione comunale anche a fronte di questo. Il comune, patto di stabilità, impossibilità di investire ma forte volontà comunque di fare qualcosa. Quindi nella nostra scuola è stato individuato come sito che poteva essere interessante sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della collocazione all'interno della città e così via per creare uno sito sperimentale, chiamiamolo così. Quindi rispettando quelle che erano le volontà del comune, sulla scuola pubblica abbiamo ipotizzato il coinvolgimento dei genitori per costituire una società, poi vedremo una cooperativa, che sostanzialmente sostituisce il comune come investitore sulla scuola. Quindi il comune ha catalizzato intorno a questo progetto una serie di enti, ha coinvolto ovviamente anche un'entità tecnica, domotecnica, che ha studiato l'intervento e quindi ha fatto tutta l'attività di progettazione e di redazione anche di un'ipotesi di piano finanziario per la sostenibilità dell'intervento. La Lega Cooperative, anche lei, si è resa disponibile per dare a noi genitori il supporto dal punto di vista di costituzione della cooperativa, gestione della cooperativa, amministrazione, perché ovviamente noi genitori non ci siamo spacciati per imprenditori, siamo rimasti quello che siamo, cittadini pieni di buona volontà e genitori che cercavano di contribuire al benessere dei nostri figli e di quelli che verranno negli anni a venire. Banca Popolare Etica, che è stato l'istituto di credito l'unico, sottolineo, perché altrimenti non avremmo potuto farlo, sono stati coinvolti anche istituti maggiori a livello nazionale e internazionale, ma ovviamente il problema di essere disponibili a finanziare un progetto senza coinvolgere, intendiamo, garanzie dal punto di vista tecnico, la cooperativa e quindi i soci della cooperativa, solo Banca Etica è stata disponibile a finanziarci senza un impegno da parte dei singoli soci. Ovviamente l'Agenzia per l'energia che ha supervisionato per il proprio ruolo tecnico la fattibilità dell'intervento, le verifiche e il rilascio delle attestazioni energetiche. Ovviamente abbiamo pensato all'intervento nell'ambito del quarto conto energia, quindi abbiamo anche alla fine corso, poi vedremo, in sede di realizzazione per riuscire a rendere produttivo l'impianto entro il 30 settembre 2011, quando scattava uno scalino del quarto conto energia, dal punto di vista di importo dei contributi. Quindi tutti questi attori hanno consentito di partire l'investimento. La scuola consentiva l'installazione di un impianto di 100 kW. È stato previsto anche il rifacimento del tetto della scuola, quindi è stato coinventato il tetto della scuola, e quindi avendone un beneficio, oltre alla produzione di energia, anche sul miglioramento del confort termico e un recupero, in termini ovviamente, di dispendio di energia in termini di calore, rifatto il tetto, posizionato l'impianto fotovoltaico. Siamo partiti nella tarda primavera del 2011, quindi l'amministrazione comunale si è mossa per coinvolgerci, e quindi il coinvolgimento è stato uno sforzo notevole e anche una forte volontà dell'amministrazione, perché non ci siamo lasciati convincere molto facilmente. Insomma, alla fine, parlando di soldi, insomma, la cosa era un po'... e quindi l'assessore ha dovuto venire diverse volte a scuola per convincere un numero sufficiente di genitori a partecipare all'intervento e quindi a investire, per riuscire ad avere il capitale sociale sufficiente a partire. Capitale sociale che abbiamo raccolto, abbiamo un capitale sociale di 200.000 euro, abbiamo costituito la cooperativa nel luglio del 2011, siamo 62 soci, non solo genitori, ma anche ovviamente cittadini del quartiere, anche, non so, associazioni, legambiente o cose di questo genere. Siamo quindi partiti col progetto, 200.000 euro di capitale, Popolare Etica ci ha dato l'altra quota con un mutuo decennale e siamo riusciti a... ecco, vabbè, dal punto di vista tecnico ovviamente il Comune ci ha concesso, in comodato gratuito, il tetto, l'utilizzo del tetto della scuola, il Comune comunque è il titolare dell'utenza elettrica della scuola e quindi è il cosiddetto proprietario nei confronti del GSE, quindi abbiamo una cessione di credito dal Comune verso la cooperativa per il giro, in modo così, macroscopico, il giro dei contributi dal Comune verso la cooperativa. Fatti i contratti, i lavori terminati per il 30 settembre, quando l'impianto è partito. Attualmente, questo è un grafico reale della produzione dell'impianto, dal primo mese di produzione dell'ottobre 2011 fino all'agosto, che sono gli ultimi dati che abbiamo. L'intenzione che noi avevamo era, ed è anche stato questo il motivo per cui i genitori sono stati disponibili all'intervento, avvicinare l'utente finale, genitore, scuola, al concetto del beneficio e al minore costo, ovvero l'intenzione è quella che i benefici dovuti all'inserimento dell'impianto abbiano anche una ricaduta diretta sulla scuola, e quindi ci sia, emerga un finanziamento verso la scuola. Noi volevamo, da questo punto di vista, far sì che questo fosse la prima parte di ulteriori passi che consentissero un intervento sempre più diretto, diciamo, dei genitori, quindi degli utenti della scuola, che consentisse di poter investire nella scuola e quindi poter andare verso direzioni come quelle che si è vista prima. Quindi fare ulteriori passi, perché di questi tempi l'amministrazione pubblica non ha disponibilità di investimento. Quindi ci pareva che questa strada fosse una strada ragionevole per non sostituire ovviamente il pubblico, ma di collaborare, di affiancarsi al pubblico, avendo meno vincoli o meno rigidità nel poter fare investimenti. Però è chiaro che la sensibilizzazione dei genitori e dell'utilizzo ottimale degli impianti che vengono messi, vuol dire che abbiamo un grado in meno di temperatura, è evidente che se il genitore è direttamente coinvolto e percepisce che questo grado in meno di temperatura vuol dire che alla fine dell'anno la scuola ha 1.000, 2.000, 3.000 euro per migliorare la didattica dei propri figli, allora dice al bambino, guarda, tranquillo, mettete un maglioncino in più che non c'è problema. Oggi la situazione invece è che il genitore si lamenta, il dirigente, per non avere problemi, perché poi è così che funziona, telefono in amministrazione, dicono qui c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo, e vabbè, alla fine la temperatura viene alzata, perché poi è così che va a finire, perché non si vuole che i genitori ovviamente si lamentano sul giornale, e tante belle cose. Quindi crediamo che una strada di questi tempi di magra, anzi di magrissima, sia interessante l'avere questa, non dico gestione diretta perché siamo troppo avanti, però un coinvolgimento molto forte, che è quello che tocchiamo con mano anche in casa, nelle nostre famiglie, è nel momento in cui tu hai la percezione di incidere direttamente, di avere direttamente i benefici che sei portato ad avere dei comportamenti virtuosi, altrimenti diciamo che pochi hanno la sensibilità collettiva e quindi hanno un comportamento virtuoso, prescindendo dall'averne il beneficio. Quindi crediamo che una strada, e questo è un primo passo che abbiamo fatto, e speriamo che con l'amministrazione si possa andare avanti, per sempre di più essere attori diretti e quindi avere un coinvolgimento nella scuola e far sì che la scuola possa fruire di questi miglioramenti, minori costi, e quindi poter essere investitori nella scuola sapendo che poi il beneficio, anche se nel tempo, però è in primis per i tuoi figli e poi per quelli che la ranno. Grazie.